Ciao ragazzi, oggi siamo qua perché andremo a fare una scelta che torna più diamante, quindi iniziamo via 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 Vai 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 A oggi voglio vincere Oh mio Dio, stavo già per perdere Intanto, non so che fare, quindi Scamare, ok, lui sta andando là Ovviamente quello che sta giocando è un mio fan E quindi io lo vorrei salutare Ciao giocatore, si chiama giocatore, quindi ciao giocatore Intanto, cerchiamo di andare a trovare qualche diamante L'ok, boh, ora io No, com'è possibile? Ok, vabbè Chissà dov'è ora lui Io spero di trovarlo Dov'è veramente? Ok, stavamo dicendo Cioè, iniziamo a minare e a cercare qualcosa Qui per ora non sto trovando nulla Io, boh, non lo so Potrei fare qualcosina Però Sta prendendo della red Ok Allora, ci sta? Ci sta? Ora io gli vorrei fare tipo Non so, una roba Oh mio dio Sì, 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 sì Quanto godo, quanto godo No No, 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 no Non girarti, non girarti Ok, benissimo Benissimo Allora, io ora inizierei Qui Andiamo qua Perfetto Perfettissimo Ragazzi il primo diamante GG Me la sono cavata Ho scavato molto però Abbiamo scavato molto Intanto Andiamo qui Esattamente come ho fatto prima E cerchiamo di andare a trovare Diamanti e soprattutto lui Perché perfetto Già l'ho trovato Guardiamo ora Che fa io intanto Vado a Non lo so Voglio fare qualcosa però Voglio soltanto guardarlo Perché poi troverò un metodo Tranquilli Qui per ora non c'è nulla Ma lì c'è una bella roba Però è troppo lontano Quindi no Intanto Qui guardiamo che cosa sta facendo Tra poco siamo alla bedrock Ma Ok no Sembrava strano Ok Intanto No Mamma mia Mi stavo guardando male Vabbè Vorrei vedere se qua sotto la lava C'è tipo qualcosa Di solito Di solito ci sono dei diamanti Però c'è la redstone Va bene ci può stare Intanto Dov'è L'ho perso Ah eccolo 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 Che fortuna Che fortuna Ok vai Ci sta Poi io ovviamente Troverò un metodino ragazzi Per vincere la sfida Perché sono molto bravo A fare queste robe Per esempio Ora potrei Prendere dei diamanti Se li trovo O se ando facendo Altre robe Intanto No c'è la lava C'è la lava Ma c'è anche un po' Di belle robe E ora Sapete che faccio Io gli sponerei Yeah Siamo Un creeper Tico Ora io andrei qua Guardate Si fa così Si fa così Impostazioni Ok E ora Sembra 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 No 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 Ok Perfetto Oh L'ho visto L'ho visto L'ho visto Ciao 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 Oi Ciao Dai Vedimi Guardami Ciao Ciao Vai vengo da te Vengo da te Oh E dagli 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 Vado da lui Vado da lui No Guardate come scappa Guardatelo Ciao Buongiorno 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 L'ho trovata Come ci si sente Dove andare via Oh guarda C'è un bel pezzo di ferro La ringrazio Posso Ah ah Scusa 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 Io vado Ciao 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 Ok ragazzi L'abbiamo incontrato Chissà come abbiamo fatto E vabbè Ehm Vabbè Lo stavo dicendo Ma No 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 Ok Perfetto Ora Io me la giocherei Guardandolo Basta Non so che fare Qui Non c'è nulla Quindi Lui va Ok Capisco Oh mio dio Lì ce ne sono alcuni Mi piace sta roba Che Ora lui sta cercando Sotto la lava E Non si è accorto Che ci sono Di diamanti Ci sta quindi Ma Mi sa che non riuscirà nemmeno A prenderli Quindi ok Intanto Mancano Due minuti Alla fine Due minuti e venti E quindi guardiamo Come se la giocherà Io ovviamente Ragazzi Troverò un metodo Tranquilli Perché tutti questi diamanti Che ho preso ora Cioè Uno Però Tranquilli Li Li sarebbero Bene Ma intanto Cos'è successo Mi sa che not Non capisco Guardiamo qui Ok Ma qui non c'è Ah Capito O c'è Ah ok C'è la lava C'è la lava Pensavo che non c'era la lava Non ci credo Non ci credo Non ci credo Che fortuna Non ci credo Non l'ha visto Ah Che bello Che bello Che bello Ma io non ci credo Ma ce ne vuole Oh ce ne vuole proprio Ora guardate che faccio Vado qui Vado così Guardiamo se c'è ancora Ok Ora gli devo tappare tutto 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 Ok perfetto 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 Ora andiamo qui Qui E qui Perfettissimo Perfettissimo Non l'ha visto Io ora Avrei una domanda Se ora vado qui E metto Tac Ok Ora potrei far di questo E far così Perfetto Se riesco Dai 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 Ma what Ciao Sì sì Vieni vieni Guarda stavo scavando qui L'ho ritrovato Vabbè Ci sta Oh Fermo Non ammazzarmi Vai via Mamma mia Ok perfetto 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 Ragazzi scappiamo 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 E eccoci qua Intanto Oh mio dio di pochissimo Se ci riuscivo a beccarmi Se mi trovavo Mamma mia Io impazzivo Intanto Andiamo a fare Una bella roba Ci mettiamo qui Cerchiamo dei diamanti Andiamo qua Facciamo di questo Dov'è Ne prendo Uno E basta Ok Poi faccio Eh ma Così è peggio È peggio È peggio Devo Andare via Devo trovare un posto Deve scappare Eccoci Facciamo di questo Guardate Guardate Dovete Farlo anche voi Così Perfettissimo 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 Così mi piace Ok E tac Ed è quasi Finito il tempo E forse Possiamo anche Vincere Eccoci Dove Eccolo Subito Ci sta Ok Ma No Cosa aveva No Io ho un dubbio Ragazzi Continuiamo subito Facendola Questa qua Ok No Sbagliato Ok Perfetto Perfetto Intanto È successa Una roba Incredibile Vabbè Intanto Il tempo È finito Quindi ora Guardiamo Quanti diamanti Avrà preso Ma Questi non li contiamo Questi non li contiamo Questi perché Avrei barato I tuoi diamanti Vai Buttali tutti Buttali Buttali Ok Io non ho questi Quindi Sei diamanti Eh Eh Sono un po' pochi Ora ti lancio I miei diamanti Che sono Ok Così Così Ok Eccoli Questi sono i miei diamanti Firmo 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 E questi sono i miei diamanti E i tuoi ovviamente I tuoi sono questi Quindi Io ho vinto Io spero che questo video vi sia piaciuto E vi saluto Ciao